Un invito che abbiamo accolto sin da subito, ci fa molto piacere essere qua, innanzitutto come vi trovate e le prime sensazioni a caldo? Io credo che questa esperienza sia utile per imparare, spero che con Igana riusciamo a fare una collaborazione, iniziare una collaborazione sui temi che riguardano la salute mentale e su altri aspetti che riguardano le progettate. Io credo che questa giornata della salute mentale deve essere una riflessione generale per tutti, perché poi abbiamo visto che le povertà crea problemi di salute mentale e possiamo anche capire che forse noi potremmo fare molto insieme, molto perché noi abbiamo solo opportunità, per lo meno in questo momento in più di quello che obiettivamente, tra l'altro se ne sta molto parlando anche in Italia nella politica, perché per i progetti nell'Africa e l'Africa è un po' di essere un po' di straordinario, con delle persone meravigliose, allora credo che l'Anti si debba fare una collaborazione e arrivare a dei progetti con noi. La giornata della salute mentale penso che sia un momento di riflessione per tutti, ma che non sia la giornata, ma sia un buon punto, perché tutto l'anno si può dare risposta a chi ha un po' di passire al momento. Grazie Roberto, grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, grazie a tutti.